Quando pensiamo ai meteoriti di certo pensiamo al Meteor Crater in Arizona, famosissima struttura visitata tantissimo dai turisti per la sua caratteristica, è perfetto, è in mezzo al deserto, è perfettamente rotondo ma pochi pensano, quando pensano ai meteoriti, al Meteorite di Murasco in Polonia. Questo dietro da me infatti non è soltanto un laghetto, è un laghetto che va a riempire il più grande di 7 crateri meteoritici presenti in una riserva naturale poco a nord della città di Poznan. Numerati da 1 a 7 e chiamati dal vicinissimo villaggio di Murasco, sono un esempio di un impatto meteoritico abbastanza recente e in realtà molto ben studiato e dibattuto soprattutto in Polonia e nell'Europa dell'Est. Il Meteorite di Murasco venne scoperto per caso, in realtà è facile camminando in queste foreste scambiare questi crateri per una conformazione naturale non che i meteoriti siano artificiali ma capite che cosa intendo. Successe nel 1914 quando in realtà i tedeschi stavano facendo i lavori di fortificazione nella città con l'inizio della Prima Guerra Mondiale e i soldati scavando trovarono un grosso pezzo di ferro. Il sergente che stava seguendo gli scavi riconobbe immediatamente che non era una cosa fatta dall'uomo ma era un meteorite. Questa scoperta in Polonia fu importantissima e saranno tantissime le spedizioni che proprio in questa zona studieranno negli anni questo impatto meteoritico. Il meteorite colpì questa zona della Polonia probabilmente 5.000 anni fa. Dico probabilmente perché vi sono due teorie diverse alle quali arriveremo. Con ogni probabilità arrivava da nord-est, con un angolo abbastanza parallelo alla Terra, poco inclinato quindi ma più radente verso la Terra. Negli ultimi tratti, prima di impattare al suolo, si andrà a frantumare in più di un pezzo. In particolare in questo parco sono stati individuati sette distinti crateri, di cui Murasco 1, dietro le mie spalle, è il più grosso. Questa immagine forse non rende benissimo, ma per fortuna tutta la Polonia è mappata con l'IDAR. Quindi vediamo un attimo esattamente come appare questo terreno se rimuoviamo gli alberi e lo vediamo dall'alto. Grazie al leader vediamo molto bene la configurazione del terreno. Come vedete sono sette i punti che sono stati individuati, ma probabilmente non sono gli unici. Ovviamente il tempo, la natura, ma anche l'uomo hanno cancellato un pochino di queste tracce. Vi è un altro cratere potenziale del quale parleremo fra pochissimo, ma non è raffigurato in questo frammento di mappa anche perché è all'esterno di questa riserva naturale. Al momento di questa prima ripresa io mi trovo nella scarpata del punto 1, la scarpata a sinistra, la scarpata a ovest, che è forse il punto più evidente dove si vede questa conformazione del terreno. Morasco 7 alle mie spalle è sicuramente meno impressionante degli altri crateri, ma l'individuazione corretta di questi crateri e dei frammenti del cratere durerà in realtà tantissimi anni. Nel 1914 il frammento che trovarono era di 77 chili, si trattava di un meteorite in prevalenza ferroso. E negli anni si seguiranno spedizioni sia di università e istituti di geologia, ma anche di privati cittadini. Famoso per esempio il caso nel 2011 quando un programma di Discovery, i Meteorite Hunters, vennero proprio qui a Morasco a cercare dei frammenti. Si servirono di un potente metal detector, essendo comunque il meteorite ferroso, e prima trovarono un frammento di mezzo chilo. Successivamente trovarono un altro frammento di quasi 36 chili. Il sentiero naturale in questa riserva è molto comodo, vicino via a un parcheggio in realtà si può visitare molto agevolmente questi crateri. Anche se magari non siete interessati alla geologia o agli impatti meteoritici, è comunque una bella passeggiatina nel bosco. Morasco 4 alle mie spalle è forse il meno impressionante di tutti questi crateri. Il cratere che era già conosciuto in Polonia grazie al programma di Discovery ebbe quasi una seconda vita, un secondo revival. Infatti l'anno successivo venne rinvenuto da un team polacco un frammento gigantesco, il più grosso in quel momento mai rinvenuto, di 261 kg. Davvero impressionante. Ma la sfida alla ricerca dei pezzi non finiva qui. Infatti nel 2017, quindi molto recentemente, è stato rinvenuto un altro frammento ancora più grosso, 271 kg. In totale di frammenti ne è stata collezionata quasi una tonnellata e mezza, quindi questo meteorite non era affatto piccolo. Anche Morasco 3 è poco impressionante, ma devo dire di quelli che ho visto ha la forma più perfettamente craterosa. Forse non si vede molto nella telecamera, ma vi assicuro che se venite qui è evidente la forma circolare. Vi accennavo al fatto che ci sono diverse teorie. Una primissima teoria vedeva questo impatto meteoritico molto più antico. La maggior parte degli studi sostiene che questo impatto avvenne circa 5.000 anni fa, in base alla profondità e allo strato dei sedimenti dove sono state trovate le rocce meteoritiche. Ma vi è addirittura un'altra teoria molto aggressiva, tra virgolette, che vede questo impatto addirittura nel 1200, nel Medioevo quindi. Infatti varie cronache redatte nell'epoca di queste zone descrivono una stella cadente, descrivono comunque un fenomeno che potremmo associare a un meteorite. E a sostegno di queste teorie ci sono anche un paio di prove fisiche. La prima prova che vede un pezzo di meteorite conficcato in una radice di un albero. La seconda prova che vede del materiale organico all'interno di una fessura in uno di questi meteoriti, datata esattamente a 800 anni fa. Quindi conforme con quello che ci raccontano le croniche. A me questa teoria affascina, anche se, da quanto ho letto obiettivamente, le prove per l'impatto di 5.000 anni fa sono molto più solide e più forte ed è una teoria molto più consolidata. Cioè nonostante, come vedete, la ricerca è estremamente attiva anche recentemente, vedasi il pezzo gigantesco trovato nel 2017. E non è detto che questo meteorite, questa piccola riserva naturale, non ci svegli altri segreti. Vi sono infatti anche altre teorie. Infatti, a qualche chilometro da qui, esattamente sull'asse nord-est, quindi da dove dovrebbe essere arrivato, vi è un altro laghetto, un laghetto isolato. Abbastanza grosso però, 300 metri per 300 metri, perfettamente circolare. La teoria ovviamente suggerisce che anche quel laghetto fosse frutto di questo stesso impatto meteoritico, fatto da un frammento ancora più grosso. Frammento che però non è stato mai ritrovato. Ma la ricerca in realtà è attiva e continua ancora oggi. Vi è un'altra teoria ancora in realtà che vede questo meteorite di Murasco allineato con un'altra serie di piccoli impatti meteoritici sparsi in tutta Europa. Che lo vedrebbe in realtà parte di un gigantesco meteorite che si sarebbe frantumato e sarebbe cascato in vari punti d'Europa, anche qui. Le meteorie dal cielo sono state storicamente, per noi umani, difficili da comprendere. Prima dell'arrivo della scienza moderna, questa forza distruttiva era una forza distruttiva di Dio e degli dei. Vi sono teorie molto interessanti che riguardano le comete e gli impatti meteoritici. Vi è ultimamente addirittura la teoria che quello che descrive la Bibbia con la distruzione di Sodoma e Gomorra con fuoco dal cielo sia stato proprio un impatto meteoritico, un quesito airburst, un meteorite che esplode nella bassa atmosfera. Anche se l'uomo ha inventato armi potentissime con le quali può annichelire completamente tutta la vita sulla Terra, dobbiamo ricordarci che siamo piccoli nei confronti della natura, perché cose ben peggiori sono successe proprio a causa di grossi sassi vaganti nello spazio. Spero che questo breve tour vi sia piaciuto, noi come sempre su Vlad non spara ci vediamo alla prossima!